Vuoi mangiare? Andiamo! Lo sai che ti voglio bene, tesoro? Ti chiedo scusa se mi sono comportata in modo strano, è solo che... Sai, a volte quando sei adulto vieni sopraffatto dalle preoccupazioni. Ma poi ti guardo e... mi ricordo qual è il significato della vita. Crisa... Shhh... ... 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